ANSA, Torino, 4-8, le uniche bugie arrivano ancora una volta dalla sindaca Pendino. L'ex sindaco di Torino, Piero Fassino, replica così alle critiche della prima cittadina pentastellata. È falso che non abbia mai detto con chiarezza lo stato dei conti pubblici, aggiunge ricordando l'uscita dal patto di stabilità proprio a causa delle condizioni finanziarie. Certo non ci siamo limitati a piangere, e i risultati del risanamento sono inoppugnabili. Per cui o è in malafede, o deve tornare sui banchi della Bocconi.